Se mi trovassi nella tempesta E mi ci sono trovata tante volte Alcun male io non temerei Romani 8.31 Se Dio è per me, chi sarà contro di me? Perché Gesù vive dentro me Ed è Lui che mi guida La mia casa è fondata sulla roccia E mai potrà essere smossa Perché la roccia è Cristo Gesù Il Re, il Signore dei Signori